I sei consiglieri dissidenti di Capaccio Pessum, il presidente della Sise, Nino Pagano, Pasquale Accarino, Angelo Merola, Alfonsina Montechiaro, Fernando Maria Muccio e Francesco Petraglia hanno annunciato di passare all'opposizione. I motivi di tale decisione, delle divergenze con l'attuale amministrazione Palumbo, saranno spiegate domani sera in conferenza stampa alle ore 17.30 presso la nuova sede del laboratorio politico del gruppo in via Magna Grecia, alla quale parteciperanno anche i consiglieri di opposizione Luca Sabatella e Pia Adinolfi.